Guarda Raffaele, eccoci, guarda Raffaele, guarda qua, saluta, ciao, sei pronto, fermo eh? Aspetta, aspetta Laura, ovviamente ecco l'assessore onorato, il secondo blocco, 14esima edizione Corri Roma, eccolo il presidente Ferrero, ecco che sparano eh Raffaele, eccolo che si spara eh? Dai, 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 no non fa male eh, dai Laura non fa male, è finta, ecco siamo in diretta, vai Laura, vai Laura, è la lanterna Laura che spara, eccola siamo in diretta, è partito il secondo blocco, Corri Roma, 20-22, 14esima edizione, argosso forse di polizia, Laura, la lanterna di pioggia, Raffaele tu sei pronto però eh? Siamo in diretta, Raffaele vuoi sparare? Vuoi sparare Raffaele? Vuoi sparare? Chi è che vuoi sparare? No, aspetta, chiama un po' Dai, dai il terzo blocco, Siamo sempre in diretta, eccolo l'assessore del, ovviamente, Roma Capitale, con la ragazza, con il ragazzo della lanterna di Diogio, siamo in diretta, argosso forse di polizia, terzo blocco, che bello, meraviglioso, allora eccolo qua, siamo sempre in diretta, bravo Gianpaolo, bravi, bravi tutti eh? Ecco il terzo blocco, adesso spara, eh, com'è il nome del ragazzo? Francesco! Francesco che sparerà con l'assessore, il terzo blocco! Partiamo sempre nella Corri Roma, eh? Sempre nella Corri Roma, eccolo! Eccolo che spara, Francesco! Eeeh, è partito il terzo blocco! Eccolo, Raffaele, modocca Raffaele! Ah, è partito il terzo blocco! Corri Roma, eccoli! E' partito! Appena finito dobbiamo entrare, ragazzi, appena finito, bisogna entrare, ragazzi, appena finito, bisogna entrare, ragazzi! Bisogna entrare, siete pronti, eh? Allora, eccoci, la Corri Roma, quattordicesima edizione, Argos, forza di pulizia, eccoci! E fra poco entrerà la lanterna con l'Argos! E anche l'assessore partirà con noi, davvero! Eeeh, non ce lo sapevo, no! All'inizio, eccoci! E' che tocca entrare noi, va lì, vissero allevare, dai! Aspetta, 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 guardate il presidente!